eccoci ragazzi allora salve beh interudinese non c'è bisogno che vi dica niente io interudinese io l'ho guardata tutta ero al bar con i miei amici di cui ho principalmente gli amici interisti io l'abbiamo guardata al bar questa sì questa l'ho guardata tutta l'ho guardata tutta praticamente e ragazzi nel primo tempo l'inter ha giocato una buona partita però è una squadra che fa pena è una squadra che fa pena non è colpa di mazzarri onestamente mazzarri non c'entra niente mazzarri è un buon allenatore diciamo che un grande allenatore è un grande allenatore non come mancini però un grande allenatore mancini proprio uno dei top player degli allenatori però anche mazzarri è molto molto buono molto buono come allenatore l'inter nel primo tempo ha fatto un buon gioco ha preso una traversa clamorosa con kovacic ma i giocatori da quella posizione era più vicino di un rigore non possono sbagliare un gol del genere l'inter ha dominato nel primo tempo e alla fine riuscita a trovare il gol con un grande passaggio di guarin per riccardi e i cardi la messa dentro 1 a 0 inter lì sembrava che che la squadrata fosse spianata io avevo sinceramente il sospetto l'avevo che l'udinese pareggiasse nel secondo tempo non credevo che vinceva assolutamente non credevo che avrebbe spugnato san siro l'udinese e nel secondo tempo invece un inter che non propone un inter che non propone la difesa che dorme ragazzi così l'inter penosa quest'anno e penosa e dodicesima in classifica cioè penosa il milano è già penoso perché già penoso ma l'inter ancora di più siamo siamo ai livelli livelli bassissimi delle due squadre di milano ed è brutto questo ed è brutto perché sinceramente mi piacerebbe più vedere inter inter contro juventus o milan contro juventus per la lotta dello scudetto che vedere juve roma sinceramente mi piacerebbe di più perché ve l'ho detto era mi entusiasmavano queste sfide mi entusiasmavano molto in vita adesso non contano praticamente niente cioè contano tre punti prima invece contavano tre punti fondamentali per il campionato e nel secondo tempo ve l'ho detto inter praticamente inesistente covacic fa un tiro fuori e bruno fernandesi si inventa un gol incredibile cioè stoppa la palla non non so se con il petto con il braccio dalle prime inquadrature sembrava con il braccio ma poi forse non l'ha stoppata col braccio ma con il petto e che carica un tiro incredibile all'angolino destro di andanovic e nulla può nulla può andanovic che aveva fatto poco dopo farà una grande parata su di natale eccetera eccetera ha fatto buone parate andanovic ha fatto di miracoli però ha fatto anche una paperella diciamo non ha trattenuto una palla fortunatamente non sembrava niente di che e la partita sembrava che scorresse solo una uno se l'entra aveva un guizzo poteva raddrizzarla ma poi palacio ha fatto una cosa incredibile incredibile onestamente parlando incredibile ragazzi inaccettabile cioè lui praticamente dalla metà camp perché era quasi a centrocampo passa la palla indietro e praticamente fa un assist incredibile per terò che vede uscire andanovic lo scarta e fa gol uno come terò non può sbagliare un gol del genere questo è un regalo di palacio 2 a 1 per l'udinese la partita finisce qui e l'udinese spugna san siro ragazzi ma l'inter che squadra è l'inter non è una squadra l'inter non è niente non è niente non è niente e purtroppo purtroppo è così purtroppo è così ragazzi non si può l'inter non può non può dire niente non può dire niente si stasera c'è stato inter carabag inter che non ha bisogno neanche del commento 0 a 0 il povero carabag gli hanno annullato un gol da regolare e per colpa di questo gol non dato e fuori dalla champions league e fuori dell'europa league purtroppo questa sera l'inter diciamo che hanno regalato un punto ma più più che ha regalato un punto l'inter che l'inter non gli fregarebbe niente e hanno tolto la qualificazione al carabag comunque dando la partita la partita finisce una due per l'udinese per l'udinese cioè ragazzi è una cosa incredibile vedere due squadre di milano ridotte così male qui mancini non può fare niente perché mancini quando ha vinto ha vinto perché era bravo aveva una grandissima squadra purtroppo e se tu non hai una grande squadra tu puoi fare non puoi fare miracoli se ci veniva moregna l'inter era la stessa cosa era uguale quindi ragazzi finito il commento di inter udinese e quindi ragazzi a questo punto penso che no penso ci rivediamo domenica con il commento post juventus sampdoria si è vi sembrava strano ma questi video sono arretrati quindi ho fatto purtroppo pubblicato prima di quello roma pubblicato prima il video di roma manchester city e poi pubblico pubblicato quello di genoa milan e questo e quindi quando li vedrete questo sarà l'ultimo video prima di juventus sampdoria quindi ci rivediamo domenica sera con il commento post juventus sampdoria speriamo che vinciamo ragazzi e speriamo che il genoa ci faccia un bel favore ciao ragazzi è sempre forza juve ciao